beh adesso da lì non va più via da lì non va più via la moto non scivola più ma non è caduta più su la moto è appunto è caduta più su no ma più su nel sentiero si è rotta la leva o la pompa? non si vede a bastardi però molla giù la moto te la fai schiazzarla? ma quando ci sono le discese non devi usarle metti la prima appunto che va figa va ma si schiaccia anche la frittura è ancora più forte e questo qua è il punto antipatico penso che lo volevamo fare al contrario e guarda che secondo me se prendi una bella in via ci proviamo farla salire se volete provare ora è il secondo rantino quello dopo sai che c'è anche il bagnato e da vento mi ha rotto anche tu e si che c'è i paramani integrali mi è andato su e mi ha rotto la leva ma se per quello non c'è più di pezzi da sassi e figa come corta ma ancora che riesce a prenderlo ma ancora che riesce a prenderlo Grazie a tutti. Grazie a tutti.